Il G20. Anche lì è stato molto importante vedersi, perché siamo riusciti a concordare una linea comune che è sostanzialmente quella di, prima di tutto, aiutare il presidente Vidoko, che è quello che organizza in Indonesia il G20. L'Italia lo sta già facendo in quanto parte della squadra che consegna il G20 per il paese successivo, l'anno scorso abbiamo ospitato noi, ma occorre un po' che tutti quanti siano vicini a lui per renderlo un successo. Questo, alla luce degli eventi, non è assolutamente scontato. Quanto alla presenza del presidente Putin, ho visto quella dichiarazione, il presidente Vidoko lo esclude, è stato categorico, non verrà. Quello che potrà succedere, io non so cosa succederà, ma quello che potrà succedere è anche un intervento da remoto. Vedremo, ecco. L'importante è che il G20 ha quindi deciso di aiutare e collaborare con la presidenza indonesiana al successo del G20, anche perché il G20 è un altro importante strumento di politica internazionale, quindi di collaborare, ma di mantenere fermi i valori che ha espresso proprio anche di nuovo durante questo G7. Quindi sostegno all'Ucraina, condanna dell'invasione russa. Questi sono i temi che il G7 difenderà nel corso del G20 e ci si aspetta che non sarà solo il G7 naturalmente a sostenerli. Prego.